E' emozionante per tutti e tutti noi oggi essere qui a presentare questo murales con il contributo prezioso di Wuming perché dentro questo affresco è rappresentata tutta la stella di XM24 e non solo storia che evidentemente Blu conosce molto bene e di cui si sente partecipe fino al punto di difenderla con un'opera d'arte che è anche e soprattutto un attito dell'esistenza infatti ha trasformato questo muro in un simbolo di tutto ciò che sta dietro e intorno a queste pietre e senza cui la stessa opera non avrebbe assolutamente senso questo muro vogliono che vada giù e noi no Nel 1966 un vecchio scrittore inglese John Ronald Reuel Tolkien venne intervistato dal Guardian e alla fine dell'intervista bloccò il giornalista e gli disse guarda io vorrei che tu venissi con me in un soborgo di Birmingham la città in cui sono cresciuto perché lì proprio nel luogo dove sono cresciuto dove una volta era tutta campagna come si suol dire c'è un vecchio mulino un vecchio mulino dove io andavo a giocare era un luogo della mia infanzia appunto che è ormai in un stato di abbandono totale e bisognerebbe fare in modo di diffondere la notizia di salvare questo posto e credo che Blu abbia fatto un'operazione in qualche modo analoga ancora più forte ovviamente ha fatto un gesto di guerriglia artistica insomma vorrei farvi notare che da qui almeno da dove mi trovo io l'andamento del dipinto mette veramente le vertigini cioè sembra che ecco se mi metto qui sembra che la città stia per franarti addosso la cima del dipinto non ho bisogno di puntare il laser lassù in cima il cielo diviso in due perché è chiaro che almeno all'apparenza si tratta di uno scontro molare tra due blocchi, due gruppi e il cielo lo rappresenta, lo rispecchia perché in effetti se guardate lì la città, una parte della città sta bruciando, questo è il fumo che si alza, sono colonne di fumo che si alzano là invece dove sta andando l'occhio di bue il prato, là il fuori insomma le colline verdi poi qui al centro invece abbiamo due altre due diciamo coppie un cocomero contro una mortadella che stanno per impattare vedete e qua sotto mi sposto qua sotto invece abbiamo la base del dipinto abbiamo l'anello e due figure che se lo contendono ok? verosimilmente il sindaco ha la fascia tricolore e un altro personaggio molto noto a queste latitudini che sta per infilarsi l'anello ma in cima alla torre degli asinelli se vedete lassù c'è l'occhio di Sauron dovete sapere che per un periodo in cima alla asinelli c'è stato anche un ripetitore della RAI quindi questa idea dell'occhio delle assonanze ulteriori qui c'è senza dubbio una dualità la rocca forte chiusa e tutti quelli appunto che stanno fuori fuori porta ma i fuori sede ma i migranti quelli un po' fuori di testa eccetera tutti quelli che non rientrano in determinati parametri nella cosiddetta normalità se date un'occhiata lì in quel punto sembra che la massa di quelli che stanno fuori e di quelli che difendono invece la rocca quasi si sfiorano vedete? sono quasi a contatto quello è il punto di scelta quello è Atlantide c'è una bandiera col simbolo dell'occupazione sopra quindi è una porta della città c'è gente che sta uscendo dalla città per dare manforte a quelli che da fuori la stanno attaccando se osserviamo la storia di Atlantide diciamo che la convenzione ha garantito continuità per un certo periodo ma poi non più anzi in qualche modo gli sei ritorta contro ed è una battaglia disperata i Nazgul ce li abbiamo solo che sopra non c'è lo spettro dell'anello c'è un celerino con la paletta eccolo qua ogni speranza svanì quindi si combatte senza speranza che diceva appunto Monicelli è una cosa infame si combatte per ciò che si ritiene giusto si combatte per non soccombere al comando si combatte per la libertà di vivere in pace si combatte per la libertà di essere e di diventare si combatte per amore della nostra intima e pubblica Contea che in fondo è tutte queste cose insieme ma contro chi si combatte nel quadro di Blu ovviamente guardiamolo l'esercito di Mordor l'esercito di questa metà di Bologna beh cominciamo dalle cose più grosse vedete le ruspe i camion e le auto in tripla fila immancabile tripla fila allora le ruspe secondo me Blu le ha proprio rappresentate come se le immaginano i bambini come dei draghi sostanzialmente col collo lungo le zanne veniamo invece alle catapulte ci sono delle fantastiche catapulte eccole qua che lanciano appunto in questo caso una mortadella gigante e sono utilizzate da macellai e salumieri li vedete ce n'è uno lì fantastico che usa una fila di salsicce come frusta ce n'è uno che col mannarino fa scattare il meccanismo della catapulta questo con i coltellacci incrociati questo che sta portando munizioni per la catapulta e anche quello è arrivato con un camion frigorifero con i quarti di bue anche quello è uno che porta le munizioni vedete la carne chi sta scendendo da questo autobus dell'ATC una banda di forsennati controllori hanno tutti il libretto della multa in mano eccoli qua sono presentati proprio con una squadra di pronto intervento arrivano giù poi ci sono anche varie creature mitologiche o strane questo qui e ce n'è un altro qua sembrano dei giganti o dei troll hanno delle delle clave ferrate e poi ci sono dei minotauri ce n'è uno lì sotto un po' nascosto e uno qui invece molto più visibile che a me hanno ricordato mi sono sembrate almeno una citazione da un altro immaginario fantasy quello prodotto da Clive Staples Lewis le cronache di Narnia ma potrei anche sbagliare questa è la mia interpretazione era un amico di Tolkien comunque ma soprattutto c'è il Nettuno guardate qua il Nettuno col tridente che è incatenato per il collo lo stanno in qualche modo lo hanno imbrigliato e lo stanno portando come se fosse una specie di bestia per usarlo contro l'esercito avversario e poi ci sono dei fantastici delle fantastiche figure mitologiche invece proprio nuove sono questi sono i cassieri questi hanno un registratore di cassa al posto della testa questi simpatici figuri qua sono un po' dappertutto in realtà sono anche qua con le palette questi sono i più cattivi questi hanno gli scudi e lì in mezzo c'è anche Darth Vader con le guardie imperiali vedete lui c'è anche il manganello per dire che è proprio di quelli cattivi eccoli qua sono praticamente i pretoriani del sindaco in realtà se guardate perché sono proprio alle sue spalle alle loro spalle c'è un personaggio quello lì quello lì è un banchiere credo perché nella sua pancia in una nicchia tridimensionale custodisce proprio il denaro c'è una mazzetta in mano sta facendo un deposito un prelievo comunque eccolo lì è subito dietro protetto da questa da questa questo manipolo e alle sue spalle ci sono degli altri personaggi curiosi vedete sono dei burattini se vedete hanno proprio la testa di legno e la bocca come quella delle marionette che stanno additando stanno additando quegli altri stanno dicendo dai addosso loro brutti sporchi e cattivi e più ancora sopra c'è un'altra processione di altri burattini guidati dal burattino capo Pinocchio proprio che ha il naso lungo che sta facendo una conferenza stampa c'è fotografi cameraman che lo stanno riprendendo e lui sta declamando in mano a una bandiera con una banconota da 100 euro e così anche gli altri e alle sue spalle appunto lui sta sta raccontando come andranno le cose in conferenza stampa alle sue spalle c'è viene portato da questa ruspa il plastico del quartiere quello che stanno per costruire anzi che stanno costruendo qui c'è il liber paradiso e c'è tutte le altre le altre case che stanno che stanno costruendo questa simpatica skyline qui che vediamo oh per ultimo ovviamente last but not least il nostro sindaco con con la faccia di Sauron eccolo qua la maschera elmo di Sauron c'è anche il Rolex ai gemelli eh va detto però la cosa che ovviamente colpisce di più è questa qui si sta lanciando oltre le transenne sta lanciando oltre le transenne per contendere a questo altro personaggio l'anello eh l'allusione al fatto che Sauron è mutevole muta faccia muta aspetto in origine molto bello poi piano piano insomma diventa invece orrendo e a un certo punto perde addirittura la sua consistenza corporea beh sarebbe il caso di parlare anche degli altri ovviamente di tutto là in mezzo ci sono alcune bandiere ce n'è una addirittura con un cuore rosso ho pensato che potesse essere anche I love XM però credo che l'interpretazione sia libera o forse non ci sono arrivato io ma soprattutto c'è Novat e Notav cominciamo da Novat che era un movimento che si è sviluppato soprattutto nel decennio scorso contro il predominio clericale vuoi dire che ad esempio con le tue tasse vorresti finanziare la scuola pubblica gratuita non confessionale dove vige la libertà di insegnamento e di religione perché ti dicono che sei ideologico sei ideologico va bene difendi il diritto alla scuola pubblica sei ideologico ci sono ovviamente i Notav ora non credo di dover spendere parole più di tante parole sui Notav certo non per presentarli però vorrei dire una cosa che quella della Valsusa è una delle battaglie più tolkieniane che mi vengano in mente alla fine del romanzo gli Hobbit protagonisti Frodo Sam Mary e Pippino tornano nella contea e la trovano occupata dallo stregone Saruman e la trovano mezza devastata devastata da impianti industriali da ciminiere gli alberi sono stati abbattuti i percorsi sono stati doviati ed è stata militarizzata da una serie di sgherri e di ceffi appunto a uno di questi a un certo punto Sam si avvicina e gli fa un discorso e gli dice ma tu ma dai sei uno di noi dovevamo all'osteria assieme perché sei passato dall'altra parte cosa stai a fare qua e mi faceva venire in mente immediatamente appunto la tecnica della goccia che i Notav mettono in atto proprio in Valsusa andando a parlare con le forze dell'ordine per deprimerle ecco per farli andare in depre e poi ci sono dalla parte di Notav ci sono gli Ent eccoli qua ci sono gli Ent questi portano le casse per i Reaver ce n'è uno con un estintore e questo ovviamente è un omaggio è un ricordo di Carlo Giuliani questi li vedete quanti sono questi ciclisti questa è la carica dei Rohirrim in bicicletta eccoli qua i Rohirrim sono i cavalieri di Roan ovviamente c'è la ciclofficina popolare si costruiscono anche dei curiosi delle curiosi biciclette guardate questo a due piani poi abbiamo ovviamente i Ravers guardate di qua ci sono questi con i carrelli della spesa e le casse sopra che è un rinoceronte che sputa fuoco trattasi niente meno che di una delle costruzioni delle macchine dei Mutoid che è stata ha sfilato la Street Rave Parade del 2001 credo addirittura poi qui davanti lo vedete c'è il book block eccoli qua e con la lente di ingrandimento si può anche cercare di capire quali sono i titoli dei libri che non sono scelti a caso la grande efficacia simbolica la sapete tutti ovviamente le foto degli sbirri che manganellano i libri la forza brutta contro la cultura secondo me è un'idea hanno avuto un impatto fortissimo è un'idea geniale questa poi vedete potrei andare avanti a lungo c'è la bandiera Antifa qui c'è teleimmagini qui con l'antenna televisiva sopra questo trespolo la bandiera dell'autofficina ampio raggio qui abbiamo Chubeca mi sposto eccolo qua eccolo qua e tiene in mano la bandiera qui con gli animali dell'XM24 il sorcio il cane il piccione e la stella ovviamente ecco qui mi devo spostare immancabile tutto il movimento del software libero autistici inventati che sta lanciando guardate un flop disc una roba retro vintage guardate come una stellina ninja lo sta lanciando così fantastico in di media sono quelli di campi aperti appunto vedete che portano tutti gli ortaggi che poi vengono caricati sulle catapulte il cocomero che viene lanciato contro la mortadella si appunto si lanciano verdure si lanciano le verdure della filiera corta dal produttore al consumatore e alcune vanno anche per dire questo se l'è presa alcune vanno anche a segno o stanno per andare a segno poi abbiamo anche guardate qui questi qui questi sono attacchinatori selvaggi hanno la scala e gli spazzoloni e sono anche coperti hanno il volto coperto in realtà a me personalmente piace vederci anche come dire la una specie di cameo iccocchiano ecco mi piacerebbe pensare ecco che lì in mezzo ci sia infilato anche l'autore ecco che del resto per quanto ne sappiamo potrebbe anche essere qui in mezzo anzi ci è rimasto fuori Willy Willy Sindaco Willy Sindaco contro Sauron Sindaco ecco che poi come dire è lui che c'ha vedete c'è XM24 ce l'ha proprio sulla felpa ora mi ci sono arrovellato su cosa diavolo se ne farà Willy dell'anello perché se lo sta per infilare al dito se se lo infila al dito innanzitutto è molto probabile che si renda invisibile perché la prima proprietà dell'anello lo sapete è quella alla fine oppure lo prende per impedire che il Sindaco Sauron se ne impossessi quindi in qualche modo sacrificandosi diciamo così glielo toglie e poi forse forse lo distruggerà forse proverà a distruggerlo forse ne verrà corrotto questo non lo possiamo sapere anche se come dire la filologia non è rispettata giustamente perché non c'è scritto un anello per ghermirli tutti c'è scritto fucking hell dentro direi che la la morale ecco che in questa battaglia noi non abbiamo soltanto fionde e catapulte contro carri armati abbiamo anche appunto zappe vanghe in senso letterale e in senso metaforico allegorico e non è una cosa da poco appunto piantare i frutti seminare perché prima o poi qualcosa nascerà quindi buona semina e buona fortuna a tutti noi grazie grazie a tutti grazie a tutti